Provedimenti urgenti indispensabili per sanare le attuali difficoltà strutturali del sistema e l'appello di medici ed infermieri del pronto soccorso del 118 al non ministro della salute Orazio Schillaci. Personali sanitario e cittadini pazienti si sono dati appuntamento in piazza a Roma il prossimo 17 novembre a lanciare l'iniziativa e la società italiana di medicina d'emergenza urgenza Simeu. Stimata la carenza di oltre 5.000 medici e di circa 12.000 infermieri con un incremento del carico di lavoro per singolo professionista registrato dal 25 al 50 per Simeu.